perché non è friendly neanche per me come al solito è partito secondo solo allora buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione a questo evento io sono Marco di ActionAid di nuovo appunto vi saluto e ringrazio per la partecipazione a questa iniziativa a cui come ActionAid teniamo particolarmente perché in qualche modo è frutto di una serie di definiamoli così incroci vantaggiosi che abbiamo costruito nel corso degli anni sul tema generale delle politiche partecipative e più nello specifico della partecipazione applicata appunto alla costruzione di servizi del cosiddetto welfare integrativo o secondo welfare cioè quei servizi che vanno ad integrare quelli forniti dai canali ufficiali del welfare istituzionale o cosiddetto primo welfare e sono costruiti attraverso pratiche collaborative tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore associazionismo in generale anche informale e altre componenti di una comunità comprese anche le singole persone su questo tema noi di come ActionAid lavoriamo da anni ormai e abbiamo portato avanti numerosi progetti su questo tema di uno dei quali e secondo me anche uno dei più interessanti tra quelli da noi realizzati cioè il progetto Cambia Terra per il supporto delle donne a rischio di violenza nel settore agricolo dell'arco ionico ci parlerà nel corso di questa iniziativa la collega Grazia Moschetti ma su questo tema abbiamo anche costruito negli anni appunto altri incroci vantaggiosi con altri soggetti della società civile in primo luogo l'associazione LabSus il laboratorio per la sussidiarietà di cui abbiamo qui con noi oggi il presidente Pasquale Buonasora e con cui abbiamo un gruppo di lavoro interno che ormai da anni anche se funziona un po' a fase alterne ci ha portato a collaborare su alcuni progetti come appunto il programma Cambia Terra di cui parleremo più avanti e a costruire anche insieme alcuni eventi al festival della partecipazione festival che come forse saprete come action aid insieme a Cittadinanza Attiva organizziamo con cadenza annuale ormai dal 2016 mi pare prima nella città dell'Aquila e adesso a Bologna che quest'anno giungerà alla sua nona edizione e si svolgerà il 14 e il 15 settembre sempre a Bologna due eventi dicevo che in cui abbiamo coinvolto molte organizzazioni dell'associazionismo locale e delle pubbliche amministrazioni anche che si occupano e portano avanti i progetti di amministrazione condivisa e welfare comunitario molti delle quali sono anche qui presenti e quindi saluto in questo percorso di incroci vantaggiosi appunto abbiamo poi anche conosciuto e condiviso un pezzo di strada con il laboratorio percorsi di secondo welfare che è un laboratorio di ricerca e informazioni che da anni dà un contributo fondamentale per ampliare e diffondere il dibattito sui cambiamenti in atto nel welfare italiano e con cui abbiamo organizzato anche l'ultimo evento sul tema al festival della partecipazione laboratorio percorsi di secondo welfare che ha prodotto quello che secondo noi è uno dei report più interessanti sul tema delle pratiche collaborative di coprogettazione e coprogrammazione per integrare i servizi di welfare e che è l'oggetto un po' di questo incontro e ce ne parlano la professoressa Franca Maino e Chiara Lodi Rizzini che sono rispettivamente direttrice scientifica e ricercatrice di percorsi di secondo welfare sempre in tema di incroci vantaggiosi devo aggiungere infine anche che questo incontro è frutto di un lavoro che abbiamo portato avanti anche nell'ambito del piano di azione nazionale per il governo aperto dell'Open Government Partnership coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e nello specifico in un'azione che ha portato alla costruzione del primo hub nazionale della partecipazione a cui molti di voi sono tra l'altro iscritti e di cui vi metterò a breve in chat il link in modo che chi vuole può anche iscriversi e che è in sostanza una piattaforma che promuove le pratiche e le politiche di partecipazione pubblica in Italia provando a mettere in rete i promotori della partecipazione sia le amministrazioni che le organizzazioni della società civile e soggetti finanziatori e all'interno del quale abbiamo attivato un'area di lavoro specificatamente dedicata al tema dell'amministrazione condivisa del welfare di comunità con l'obiettivo di creare un luogo dove si possa continuare a parlare come faremo nell'incontro di oggi in cui ci si possa confrontare su questi temi e su questi strumenti di cui parleremo come sapete come saprete insomma negli ultimi anni sono sempre più diffuse e sperimentate in Italia le pratiche di coprogettazione dei servizi di welfare e sono state prodotte anche delle normative di riferimento di cui parleremo oggi con l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore collaborazione tra amministrazione e organizzazione della società civile e comunità locali nell'implementazione delle politiche sociali si tratta di un tentativo faticoso perché tale è di costruzione di un modello collaborativo in cui la sussidiarietà orizzontale non si realizza semplicemente nell'esternare l'erogazione dei servizi di welfare a qualche soggetto extra istituzionale ma si fonda sulla capacità di sviluppare processi quanto più possibili inclusivi a partire dalla fase di progettazione fino alla realizzazione e alla gestione dei servizi questo processo come detto è un processo anche faticoso per certi versi perché comporta un alto grado di complessità nella gestione delle relazioni tra diversi attori coinvolti nella progettazione e nella gestione dei servizi e un alto grado di complessità anche nella creazione di percorsi di coprogettazione realmente inclusivi per la costruzione di sistemi di welfare ecco il rapporto il sesto rapporto agire insieme di laboratorio dei percorsi di secondo welfare secondo noi è particolarmente interessante da questo punto di vista perché fa il punto sullo stato di attuazione di queste pratiche in Italia evidenziandole però sia a punti di forza che di debolezza fattori facilitanti ostacolanti e soprattutto anche alcune direttrici di miglioramento utili a rendere questi strumenti una leva di cambiamento reale del welfare locale per cui io chiederei intanto subito a Chiara Lodi Rizzini e alla professoressa Franca Maino di descriverci questo rapporto raccontarci da cosa è scaturita l'esigenza di approfondire proprio questa tematica quali sono gli obiettivi che vi siete posti come gruppo di ricerca e quali sono soprattutto i principali risultati a cui siete giunti e su cui poi potremo fare un ragionamento insieme quindi lascio a voi la parola credo subito a Chiara Sì parto io quindi buon pomeriggio a tutte e tutti Buon pomeriggio Sì allora inizio io introducendo diciamo questa presentazione nella quale abbiamo pensato di raccontarvi molto brevemente innanzitutto su che cosa si concentra il rapporto quindi un po' al disegno della ricerca che abbiamo seguito e gli obiettivi poi faremo una piccola parte di contesto che chiarisce il perché è necessario trattare di coprogettazione e coprogrammazione nel senso che sono soprattutto i bisogni che racconteremo quelle aree nelle quali queste pratiche si stanno espandendo maggiormente e poi entreremo invece più nel merito di coprogettazione e coprogrammazione dei punti di forza e debolezza che le caratterizzano partendo quindi da una panoramica l'obiettivo era quello di integrare perché e in quale modo coprogettazione e coprogrammazione stanno diventando sempre più la logica di intervento che si segue nella progettazione e nell'implementazione di servizi e politiche sociali quindi in secondo luogo anche capire quali sono i fattori che le facilitano e le ostacolano l'oggetto della ricerca quindi sono le pratiche di coprogettazione e coprogrammazione in Italia e in particolare il ruolo degli attori del secondo welfare e come queste interagiscono con l'attore pubblico come dicevo dalla fase di formulazione fino a quella di implementazione di politiche programmi e servizi sociali territoriali affronteremo cinque tematiche quindi quali sono gli elementi diciamo abbiamo affrontato ecco cinque tematiche gli elementi costitutivi e definitori facendo anche riferimento alla normativa recente sul tema lo sviluppo dei dispositivi i fattori di forza di criticità e conseguentemente anche i fattori facilitanti degli ostacoli e poi con lo sguardo al futuro le opportunità e le sfide che ci attendono anche in relazione alla valutazione delle pratiche collaborative quindi il rapporto unisce una parte più teorica e definitoria dove cerchiamo un po' di tirare le somme sull'istituto della copresentazione e della coprogrammazione poi c'è tutta una parte invece che segue tutto il lavoro di ricerca empirica che abbiamo fatto e quindi cerca di evidenziare come dicevo fattori ostacolanti criticità e punti di forza e fattori facilitanti e poi ci sono tutta una serie di casi di studio di racconti di esperienze che chiariscono quanto discusso e c'è per esempio il caso delle reti territoriali di conciliazione di regione Lombardia si discute del ruolo delle fondazioni di origine bancaria con un focus sul programma Equilibri c'è poi il tema delle fondazioni di comunità di come queste agiscono per favorire lo sviluppo locale e poi il caso di cambia terra di cui ci raccontano i colleghi oggi e poi diciamo una parte conclusiva che tira le somme un po' su tutto il lavoro fatto quindi venendo più al contesto dicevamo si tratta di bisogni nei quali relativamente ai quali il welfare pubblico il welfare state classico come lo conosciamo o negli anni è stato assente o sta sempre facendo fatica a intervenire quindi si sono sviluppati margini di azione per sperimentare appunto pratiche di coprogettazione e coprogrammazione e per aprire tutte queste aree anche a soggetti esterni al perimetro pubblico il primo di questi temi è quello di queste aree quella della povertà in questo grafico voi vedete l'andamento della povertà assoluta sostanzialmente negli ultimi vent'anni per classe di età e quello che emerge molto chiaramente come il 2008 quindi la crisi del 2008 e gli anni immediatamente successivi hanno costituito uno spartiacque a seguito del quale la povertà è cresciuta e ha cominciato a crescere in maniera costante e molto intensa ma soprattutto è divenuto un fenomeno generazionale al punto che i minori che sono la linea rossa quella più in alto sono sostanzialmente hanno una percentuale di persone di individui di un povertà assoluta che è circa il triplo di quella degli over 65 ed appunto mentre quella degli over 65 sostanzialmente è inestabile nel tempo quella dei minori è praticamente triplicata nel corso di vent'anni quindi diventa un fenomeno sempre più generazionale e anche sempre più multidimensionale quindi noi parliamo ormai di povertà abitativa sanitaria energetica digitale cioè di tutto un insieme di forme di povertà che hanno che chiaramente sono interrelate l'una con le altre ma hanno tutte anche delle specificità che si deve poi tenere in considerazione nel momento in cui si interviene con una politica un programma determinato e l'altro aspetto diciamo interessante è che nell'ultimo decennio c'è stato un significativo investimento da parte del soggetto pubblico nell'area della povertà ci sono state tutte le sperimentazioni del REID al reddito di cittadinanza e poi tutte le misure introdotte in epoca pandemica ma nell'ultimo anno c'è stata una battuta d'arresto quindi abbiamo visto il ritorno con l'assegno di inclusione e il supporto formazione lavoro a politiche che segnano un ritorno a misure categoriali quindi diciamo lo scenario che ci attende è abbastanza incerto o comunque sembra segnare un po' una marcia indietro del soggetto pubblico nei confronti del tema del problema diciamo della povertà un'altra area che abbiamo indagato che è abbastanza nuova è quella della povertà energetica che consiste sostanzialmente nella difficoltà a acquistare un paniere minimo di beni e di servizi energetici quindi non sono in grado di acquistarli oppure per farlo devo rinunciare ad altre voci di spesa ad esempio sul fronte del sostegno all'istruzione dei figli alle spese alimentari eccetera come vedete anche nel grafico chiaramente l'andamento della povertà energetica segue quello della povertà più in generale quindi i numeri sono i dati sono peggiori a sud e colpiscono soprattutto questo fenomeno i minori gli stranieri e appunto le persone che vivono nell'Italia meridionale parliamo di una media dell'8,5% delle famiglie nel 2021 e sicuramente c'è stata un'impennata del fenomeno negli ultimi due anni diciamo soprattutto nell'ultimo anno un po' per un processo di inflazione che era già partito da prima ma soprattutto accelerato con lo scoppio del conflitto russo-ucraino c'è poi un importante nesso col cambiamento climatico nella misura in cui per esempio l'aumento dei costi impedisce una significativa quota di persone per esempio di utilizzare il condizionatore d'estate e quindi chiaramente le persone più vulnerabili sono quelle che poi vengono anche di riflesso colpite dal cambiamento climatico perché non hanno i mezzi propri per far fronte alle conseguenze e quindi è una forma di povertà abbastanza nuova e diciamo non tantissimo di battuta ma che riteniamo molto interessante così come quella della povertà digitale che fa riferimento sia alle competenze nell'utilizzo di strumenti digitali ma ovviamente anche al possesso di strumenti digitali quindi l'avere questi strumenti ed avere anche le competenze con cui padroneggiarli come vedete in questo grafico l'Italia che è il quarto ultimo paese a partire da destra ha una media del 46% degli italiani con competenze digitali di base o superiori e quindi molto più modeste ovviamente per gli anziani come prevedibile per le donne e per le regioni del sud c'è poi tutto un problema infrastrutturale per cui il 38% delle famiglie vive in zone non coperte da banda larga e il 22% dei nuclei si collega con smartphone che però ha delle grandi limitazioni su diversi fronti il primo di tutti è quello dello studio quindi ovviamente non consente di seguire ad esempio lezioni o di elaborare testi compiti eccetera come invece si riesce a fare tramite pc quindi ha limitazioni in diversi campi principalmente quello del settore educativo il PNRR dà una serie di finanziamenti per il potenziamento tanto delle reti che delle competenze digitali essendo quello della transizione digitale uno dei perni del piano in particolare vengono slide successiva diciamo tra i più colpiti appunto abbiamo ancora una volta i giovani e qui si pone il problema del rapporto tra digitalizzazione e povertà educativa che è emerso chiaramente durante la pandemia ma comunque diciamo dall'utilizzo degli strumenti digitali si possono ricavare anche opportunità educative ma ovviamente ci possono essere delle limitazioni c'è poi tutto il tema del rapporto tra digitalizzazione e mercato del lavoro questo sia perché avere delle competenze digitali adeguate è ormai un presupposto per accedere forse a qualsiasi professione ma anche perché è un presupposto molto importante ad esempio anche nella ricerca di un lavoro nel momento in cui ormai è sempre più richiesto di caricare curriculum sui portali di utilizzare piattaforme per la ricerca di un lavoro e quindi chi non ha strumenti o competenze digitali viene lasciato indietro sin dalla fase proprio di ricerca di occupazione e poi c'è tutto il tema della digitalizzazione e invecchiamento anche in questo caso gli anziani potrebbero trarre giovamento dalle tecnologie nel senso che ad esempio c'è tutta la parte di pensiamo sull'accesso al fascicolo sanitario elettronico all'accesso referte alla pronostazione di visite eccetera ma c'è poi tutta anche una parte di accesso ai servizi pubblici pensate banalmente all'utilizzo di un speed che però è molto in realtà difficile per tantissimi anziani e poi tutto il tema anche dell'utilizzare le piattaforme gli strumenti digitali come contrasto all'esclusione e poi anche tutto il tema dell'utilizzo della domotica del digitale nell'evitare diciamo nel potere permanere verso la propria abitazione anche quando si invecchia tutto il tema della telemedicina eccetera e tutto ciò con sullo sfondo il tema dell'intelligenza artificiale che pone sfide su tantissimi fronti tra cui è quello anche sicuramente del mercato del lavoro e delle occupazioni future c'è la sfida poi della longevità noi sappiamo che l'Italia è un paese che invecchia abbiamo uno dei tassi di popolazione over 80 più alti forse il più alto in Europa e quello forse più basso di under 14 quindi siamo rispettivamente sul 7% per gli over 80 e il 12% per gli under 14 abbiamo visto che gli anziani sono meno esposti ad esempio al rischio di povertà ma sono esposti ad altri rischi tra cui quello sicuramente della solitudine c'è tutto il tema della povertà abitativa delle barriere architettoniche eccetera poi il tema del digitale che abbiamo appena visto e ovviamente il tema di come una società più longeva affronta l'invecchiamento e quindi riesce per così dire invecchiare bene qui c'era stato lo scorso anno l'approvazione della legge delega numero 33 che avrebbe dovuto riformare tutto il sistema della autosufficienza quello che poi è accaduto è stato di disattendere di molte delle aspettative che si erano fatte tanto sul piano delle risorse che su quello poi degli interventi operativi e quindi diciamo al momento non sembra cambiare molto rispetto alla situazione preesistente chiudiamo direi poi con il tema dell'accesso alla sanità qui durante la pandemia l'accesso diciamo della sanità è diventato uno dei temi più caldi più avvertiti al punto che è stato inserito nel PNRR è uno dei fronti che riceve la maggior parte delle risorse con 15 miliardi per la missione 6 che è dedicata appunto alla salute con l'obiettivo da un lato di rafforzare la medicina territoriale e l'integrazione sociosanitaria dall'altro di ammodernare tutte le strutture tecnologiche digitali esistenti tuttavia nonostante questo investimento diciamo questa volontà di riforma ci sono anche qui tutta una serie di incognite quindi innanzitutto il fatto che il PNRR è stato rinegoziato quindi tutti gli obiettivi relativi a casa di comunità ospedale di comunità eccetera sono state redefiniti c'è la dipendenza dai modelli regionali preesistenti quindi alcune regioni stanno effettivamente procedendo verso una riforma dei propri essetti e altre invece stanno rimanendo sostanzialmente fermi quindi ovviamente quello che c'era prima influenza enormemente quello che ci sarà un domani rende incognito appunto un po' il futuro della riforma sanitaria e poi c'è tutto il nudo del personale per cui noi abbiamo una nota carenza di personale medico-sanitario che non riusciremo diciamo a colmare neanche con tutti questi investimenti quindi c'è questa intenzione alla riforma però poi operativamente la sua applicazione sarà molto più difficile e molto più limitata di quello che si prevede quindi abbiamo visto una crescita dei nuovi rischi sociali con un aumento della domanda di protezione sociale e poi anche tutte queste recenti crisi economico-sociali che però avvengono in una fase di riduzione delle risorse quindi siamo in un'epoca di policrisi quindi dove ci sono più crisi che non solo si sosseguono ma si sommano l'una sull'altra quindi si parte dal 2008 poi la crisi post-pandemica il conflitto russo-ucraino e poi tutto il tema della transizione ecologica e dei cambiamenti climatici che pongono nuove sfide anche sui sistemi di welfare sia in termini di risorse che nella misura in cui cambiano anche la percezione e gli effetti dei vari problemi che abbiamo visto e quindi in questo contesto coprogettazione coprogrammazione quindi l'agire insieme risulta un'opportunità di di soluzione di affrontare tutte queste crisi che si sosseguono non so se ancora una slide esatto quindi sostanzialmente noi abbiamo visto che con il finire degli anni 90 c'è stata una progressiva apertura che è un po' culminata nella legge tra il 28 e il 2000 che aveva da un lato istituito per la prima volta il termine la prassi della coprogettazione aveva iniziato a ragionare sul tema dell'integrazione sociosanitaria e degli attori pubblici e non pubblici quindi aveva aperto la strada a questo tipo di pratiche progressivamente poi c'è stata una suburocratizzazione nella gestione dei servizi ed una spinta propulsiva alla coprogettazione con un passo importante è stato poi quello dell'approvazione del codice del terzo settore ed è in particolare dell'articolo 55 che aveva ampliato le opportunità di utilizzo della coprogettazione e poi con la crisi pandemica c'è stato dopo una iniziale battuta d'arresto con una tendenza un po' un accentramento delle politiche e dei processi decisionali c'è stato in realtà poi un risveglio del territorio e una nuova fase di applicazione appunto di tutte queste pratiche collaborative poi nello specifico di coprogettazione e coprogrammazione quindi diciamo un contesto nel quale si sono susseguiti diverse crisi e dove però anche il legislatore e l'attore pubblico progressivamente si sono sempre più aperti sia nella fase di implementazione ma anche nella fase di programmazione a nuovi soggetti esterni diciamo all'area del perimetro pubblico quindi su questo io passo la parola invece a Franca Maeno che entra più nel vivo dei risultati della ricerca grazie Chiara buon pomeriggio a tutti in effetti diciamo dentro questo contesto come bene ha detto Chiara ci siamo proprio interrogati se in che misura le pratiche collaborative nel caso specifico la coprogettazione e anche sullo sfondo la coprogrammazione potessero diventare o stanno diventando o potranno diventare degli strumenti che permettono sempre più e facilitano appunto una logica collaborativa e originano e portano anche alla costituzione di veri e propri sistemi di governance collaborativa per cui affrontare questo tipo di sfide è più diciamo facilitato in ogni caso può portare a dei risultati diciamo migliori in grado di fornire delle risposte a livello diciamo locale rispetto ai bisogni della popolazione allora nel rapporto in particolare il secondo capitolo è proprio dedicato a ricostruire l'evoluzione a cui ha già fatto cenno Chiara che è avvenuta in questi ultimi due o tre decenni che è una evoluzione che ha riguardato prima di tutto e continua a riguardare anche le prassi diciamo a che fare con i processi con tutta una serie di elementi che appunto facilitano stakeholder portatori di interessi diversi li spingono sempre più a lavorare insieme dentro reti plurali multiattore definendo insieme quali sono i bisogni trovando insieme le soluzioni possibilmente anche agendo insieme per fornire le risposte però mentre questo si è andato e si è andato sviluppando e si sviluppa ancora quello a cui abbiamo assistito è in effetti anche un mutamento a livello normativo e regolativo che dal nostro punto di vista è quello che andiamo sottolineando nel rapporto anche proprio facilitato e ancora di più potrà facilitare questo quadro regolativo normativo che vedete richiamato nella slide mi riferisco in particolare appunto all'articolo 55 del codice del terzo settore alla sentenza 131 della Corte Costituzionale alle linee guida ministeriali ancora più recentemente al codice dei contratti pubblici tutto questo ha in effetti spinto molti soggetti coinvolgendo sempre di più l'attore pubblico ad attuare la coprogettazione e la coprogrammazione come vero e proprio dispositivo all'interno di questo quadro che ho richiamato e che non sto adesso a dettagliare perché da un lato non c'è tempo e dall'altro mi aspetto anche che molti dei partecipanti a questo momento per la verità siano pienamente consapevoli di che cosa faccio riferimento parlando dell'articolo 55 piuttosto che della sentenza della Corte Costituzionale o delle linee guida il punto è proprio sottolineare questo che al di là di una serie di diciamo fenomeni di processi che dal basso in modo più o meno destrutturato e spontaneo si sono andati sviluppando e sperimentando oggi abbiamo un alleato in più rispetto alle pratiche collaborative che è questa normativa diciamo di favore di supporto a cui si aggiunge oltre diciamo accanto al contesto nazionale anche le scelte che a livello regionale a livello locale possono essere fatte sempre in logica e attraverso il ricorso alla normativa regionale o alla regolamentazione regionale o di livello locale questo è un ulteriore punto di sostegno e di sviluppo interessante allo stesso tempo porta con sé o può portare con sé anche però alcuni rischi che vanno sottolineati e cioè di nuovo un rafforzamento di uno di quei tratti distintivi del nostro sistema di welfare o della modalità con cui noi andiamo ad affrontare nel nostro paese le sfide quella cioè di diciamo differenziare le soluzioni le strategie le scelte a seconda dei contesti territoriali in cui queste provano a svilupparsi quindi se la normativa nazionale favorisce o potrebbe favorire una certa omogenità diciamo quello a cui cominciamo già assistiamo è che poi dentro questo quadro le regioni o i territori prendono anche strade differenti un secondo elemento che siamo andati a sviluppare ad approfondire nel rapporto attraverso interviste attraverso focus group in particolare attraverso un approccio qualitativo alla ricerca empirica è stato quello di ricostruire perché abbiamo assistito a questo crescente ricorso alle pratiche collaborative e all'interno del quale si va a collocare anche il ricorso alla coprogettazione come vero e proprio dispositivo che facilita una governance collaborativa e abbiamo individuato quattro ragioni principali da un lato diciamo chi ha risposto chi ha partecipato alla nostra ricerca ha sottolineato che le pratiche collaborative forniscono rappresentano in effetti una soluzione che è meglio in grado di mettere in campo delle risorse e delle risposte ai bisogni sociali con particolare riferimento proprio ai nuovi bisogni sociali nuovi rischi e nuovi bisogni sociali che rimandano esattamente al quadro che seppur sinteticamente Chiara Lodi Rizzini ha poco fa illustrato sono proprio quelle aree in cui il welfare pubblico tradizionale di impianto nazionale fa più fatica e quindi le soluzioni arrivano non solo dal welfare pubblico locale ma da un welfare pubblico locale che spinge a fornire a coinvolgere il pubblico il terzo settore in molti casi anche attori privati a lavorare insieme una seconda ragione per cui si ricorre sempre di più alla coprogettazione ha a che fare con la crescente consapevolezza della necessità che un cambiamento non è più rimandabile questo cambiamento è un cambiamento culturale quindi una diciamo volontà una disponibilità a riconoscere che le caratteristiche del welfare tradizionale hanno in parte fatto il loro tempo e c'è necessità di ricorrere a nuove logiche o appoggiarsi a nuove logiche a nuovi strumenti e anche riconoscere come un valore proprio quell'apertura nei confronti di soggetti non pubblici che significa poi così sottolineare come le sole istituzioni pubbliche e le sole risorse pubbliche non possono e non bastano a fornire risposte alle nuove sfide e ai bisogni crescenti terzo elemento per cui si ricorre alla coprogettazione è che questa aiuta a consolidare proprio il welfare di comunità o il welfare di prossimità che questo significa sostanzialmente riuscire ad avvicinare le risposte ai problemi là dove questi si manifestano si palesano e emergono nella loro gravità nelle loro criticità quindi si associano le pratiche collaborative proprio allo sviluppo e al rafforzamento di quello che possiamo definire un welfare sempre più prossimo ai problemi alle persone alle famiglie ma soprattutto che si sviluppa all'interno e grazie alle risorse della comunità in senso più ampio e infine un ultimo elemento ha a che fare con l'innovazione in senso sociale quindi le pratiche collaborative sono in effetti associate all'innovazione sociale che significa mettere in campo risorse dispositivi modelli servizi sempre più in grado di fornire delle risposte più efficaci da un lato a quelli che sono gli strumenti tradizionali ma ancora una volta la definizione di innovazione sociale richiama anche l'elemento della collaborazione a sua volta sottolinea come questo investimento questa capacità di fornire risposte più efficaci si associa a nuove partnership nuove reti nel rapporto già sottolineato prima facciamo ampio riferimento anche a quelli che sono da un lato i fattori facilitanti e dall'altro i fattori ostacolanti delle pratiche collaborative io adesso vorrei per la verità abbiamo due slide su questo che io vorrei approfondire solo molto molto rapidamente perché credo che questo possa emergere poi anche guardando a quelle che sono oggi le sfide e le opportunità associate allo sviluppo delle pratiche collaborative e soprattutto a quelle che abbiamo identificato nel rapporto come le direttrici che possono essere ulteriormente potenziate percorse per investire sulle pratiche collaborative quindi mi limito semplicemente a sottolineare che fattori facilitanti hanno per lo più a che fare con il contesto in cui si fa ricorso alla coprogettazione e alla coprogrammazione hanno a che fare con tutta una serie di fattori più di tipo organizzativo e operativo e poi soprattutto entrano in gioco i fattori di processo quindi ancora una volta quali sono gli attori e che tipo di investimento gli attori scelgono di fare rispetto alle pratiche collaborative e tanto più si riesce a coinvolgere l'attore pubblico mettiamola così l'attore pubblico si sente in prima linea nel promuovere coprogettazione e diciamo sempre più la coprogrammazione questo diventa davvero un fattore che innesta poi a cascata tutta una serie di passaggi successivi che consolidano e rafforzano non solo il processo in sé ma gli esiti che si raggiungono viceversa rispetto ai fattori ostacolanti su questo tornerò proprio anche diciamo fra poco identificando le direttrici di miglioramento di sviluppo diciamo che sono quattro le dimensioni intorno alle quali abbiamo identificato i maggiori fattori principali fattori ostacolanti da un lato proprio il contesto ma con specifico riferimento a quei fattori di resistenza al cambiamento quindi là dove si annidano ancora tutta una serie di come dire o prassi in parti obsolete o dall'altro interessi che come dire non permettono quell'apertura e quel riconoscimento di quanto una postura diversa possa fare la differenza nel promuovere questo tipo di pratiche una serie di ostacoli legati alle procedure di tipo amministrativo al contesto e alle regole a settino organizzativo e poi anche alle risorse a disposizione e agli strumenti con cui queste risorse sono messe a disposizione quindi in particolare molto spesso le pratiche collaborative originano da bandi bandi pubblici o bandi promossi da soggetti del terzo settore da enti filantropici che si portano però dietro come dire ulteriori elementi che aggravano la possibilità di portare fino in fondo i processi collaborativi e ultimo ma non meno importante l'investimento che non solo la parte amministrativa ma soprattutto la parte politica sceglie o meno di fare nei confronti nel promuovere la coprogettazione e soprattutto la coprogrammazione ma dicevo scusate mi sono tornata indietro vorrei dire spendere due parole in più su sfide e opportunità in particolare sottolineando rispetto alle sfide due elementi uno che la possibilità che si rafforzi ulteriormente il ricorso alle pratiche collaborative passa da quello che è emerso dalle interviste dalla capacità di interpretare questi processi in una prospettiva in un'ottica di medio lungo periodo questo sottende significa riconoscere come la risposta a quei problemi che sono stati identificati prima possa debba transitare attraverso misure strumenti servizi che agiscono con una logica sempre più di tipo anticipativo e non reattivo ed emergenziale quando oggi invece il nostro sistema di welfare tendenzialmente è ancora fortemente innestato e ancorato a una dinamica reattiva e emergenziale quindi tanto più si riesce a vincere diciamo la sfida dell'investimento di una capacità di individuare quali sono i bisogni i rischi e i bisogni e intorno a questi preventivamente costruire delle risposte tanto più i territori e le comunità sanno e sapranno essere pronte ad affrontare anche i rischi nuovi rischi e diciamo le conseguenze inattese che si annidano rispetto ai problemi identificati e la terza sfida su cui voglio richiamare l'attenzione è proprio quella del capacity building delle organizzazioni questo significa investire da parte delle organizzazioni pubblico ma in particolare il mondo del terzo settore soprattutto sulla formazione da un lato e una capacità di rafforzare la come dire attraverso il ricorso a nuovi strumenti al riconoscimento dell'importanza delle pratiche collaborative una logica di intervento che da un lato si apre ovviamente alla collaborazione con il pubblico ma riconosce come anche la collaborazione col settore privato possa generare in una logica sistemica una logica di welfare di comunità delle nuove risposte sempre più efficaci quindi bisogna attraverso la formazione attraverso l'investimento sul personale interno delle organizzazioni attraverso un cambiamento culturale sempre più su quello che qui nella slide chiamiamo il capacity building d'altro lato lavorando su queste sfide si può vedere alle pratiche collaborative anche in termini di opportunità da un lato perché si può attraverso la coprogettazione la coprogrammazione lavorare diciamo nel ciclo lungo dei processi decisionali soprattutto o in particolare a partire dalla definizione dei problemi e quindi quali nuovi servizi interventi possono essere messi in campo in risposta ai bisogni alle sfide di cui abbiamo detto lavorare molto di più in fase implementativa sull'integrazione dei servizi cosa non scontata oggi una delle criticità maggiori che il welfare pubblico locale affronta è proprio quella di integrare più tradizionalmente tra la sfera sociale e la sfera diciamo sanitaria ma in generale si riscontra ed è diciamo segnalato da molte dalla letteratura ma poi attraverso interviste approfondimenti il fatto che prevale ancora una logica prestazionale che procede per compartimenti stagni a silos per cui ogni settore di policy nell'area ampia del welfare agisce in modo autonomo e invece c'è bisogno di affrontare i problemi sollevati in modo trasversale quindi agendo e investendo su una maggiore integrazione terzo fronte terza opportunità è quella che ha a che fare con i processi in questo caso il tema è proprio quello di investire sempre più sulle dinamiche partecipative e anche sulla corresponsabilizzazione di quelli che sono i diversi attori e stakeholder che sono coinvolti dentro le reti e poi ultimo elemento che siamo andati a sottolineare a sviluppare anche più di quanto possa fare io adesso il tema della misurazione degli impatti generati con le pratiche collaborative su questo dalle interviste dall'analisi empirica emerge che c'è una crescente sensibilità su quanto questo sia un fronte importante da promuovere da sviluppare ma come ci sia tutto sommato un certo ritardo e ancora poche evidenze dei risultati che si raggiungono evidenze che esitano da un investimento fatto a monte proprio su non solo il monitoraggio e la valutazione ma proprio la valutazione di impatto perché questo è importante perché un investimento in questa direzione dovrebbe portare poi anche a logiche remunerative nel momento in cui attraverso la coprogettazione si va a riconoscere quello che è il contributo messo in campo in particolare da alcuni soggetti so di dovermi avviare le conclusioni e quindi mi limito con questa slide a richiamare rapidamente quelle che nelle conclusioni del rapporto abbiamo individuato essere diciamo le direttrici che dovrebbero essere diciamo su cui investire maggiormente su cui il welfare territoriale di prossimità queste reti plurali dovrebbero sempre più investire intanto il cambiamento dovrebbe riguardare diciamo la postura rispetto proprio al tema delle nuove pratiche e del cambiamento quindi una visione più disruptive che significa non temere la complessità e affrontare come dire direttamente frontalmente la complessità riconoscendo che le logiche più tradizionali in parte hanno fatto il loro tempo e davvero investire sempre di più sui processi collaborativi può come vi ho detto rappresentare potrebbe costituire e fornire un cambio di passo un secondo elemento è il riconoscimento della multidimensionalità dei fenomeni questo l'ha richiamato bene Chiara nella sua parte e io aggiungo che al riconoscimento della multidimensionalità dei fenomeni la povertà per dirla ma non per fare un esplicito riferimento ma non solo quella chiama però in causa e richiede sul fronte dell'offerta un investimento a generare sempre più risposte di tipo cross-settoriale e quindi quell'integrazione che richiamavo poco fa una terza direttrice ha a che fare con l'intenzionalità nel volersi aprire alle collaborazioni e quindi riconoscere che collaborare non significa mettere totalmente da parte quelli che sono gli interessi delle diverse organizzazioni dei diversi enti che partecipano ai processi collaborativi alla coprogettazione alla coprogrammazione significa che a divenire però o voler a divenire ha diciamo dei compromessi nell'interesse proprio di quello di prossimità e di comunità che ho evocato o menzionato prima quarto fronte investire sulla conoscenza reciproca degli attori coinvolti e lo tratto insieme al punto successivo curare le fasi di avvio quello che è emerso chiaramente è che in questo processo lungo di coprogettazione di coprogrammazione tanto più si investe in termini di tempo in termini di risorse in termini di conoscenza reciproca degli attori che sono coinvolti nelle reti nelle fasi iniziali tanto più come dire si capitalizza l'investimento fatto generando dei risultati e cogliendo appieno i frutti che si maturano nel corso del processo fino ad arrivare alle fasi di attuazione e questo lo vediamo sia all'interno del processo in quanto tale quindi rispetto ad un nuovo servizio che viene messo in campo rispetto ad un target specifico ma lo vediamo anche in logica vorrei dire vorrei sottolineare più sistemica che cosa sto dicendo sto dicendo che abbiamo sempre più evidenze che là dove si investe sulla coprogettazione e sulla coprogrammazione questo poi agisce anche rispetto a nuovi fronti che si possono aprire vi faccio un esempio concreto quando prima vi dicevo che al di là della coprogettazione della coprogrammazione come dispositivo avevamo già assistito in risposta alla crisi del 2007 e del 2008 al ricorso a reti reti multiattore al coprogettare insieme al collaborare insieme ecco quell'esperienza lì che si è andata rafforzando tra il 2010 e il 2020 quando poi scoppia la pandemia ha generato un terreno e un contesto fertile che ha facilitato soprattutto in alcuni contesti in alcuni territori la capacità permesso ha rafforzato la capacità di reagire a quella nuova crisi alla crisi pandemica arrivo mostrando come quei territori erano allenati al collaborare a lavorare insieme e quindi a farsi trovare preparati rispetto alle nuove sfide chiudo davvero volendo semplicemente sottolineare che nelle direttrici un punto davvero importante è lavorare e investire sull'allineamento tra la parte politica e la parte amministrativa perché molto spesso è proprio lì che si annidano le criticità maggiori quindi abbiamo una parte amministrativa che ha fatto propri gli strumenti ed è anche pronta a lavorare sempre di più in sinergia col terzo settore ma non trova un sostegno da parte della classe politica o viceversa una classe politica che vorrebbe spingere ma non ha con sé e non trova nella parte amministrativa un alleato e quindi credo che questa sia davvero in termini di rapporto tra policy e politics una di quelle aree in cui ci sono margini di crescita e di miglioramento nelle pratiche collaborative mi scuso se sono andata a lunga e cedo la parola a Marco e a Grazia No, 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 no figura se ci mancherebbe grazie anzi ci sono un sacco di spunti di riflessioni ma appunto perché come scrivo in chat magari poi dopo ci lasciamo un momento di discussione a domande e chi vuole poi intanto anche scriverle nella chat insomma non volevo sacrificare troppo tempo anche alla discussione però appunto abbiamo anche parlato di pratiche di welfare di comunità e all'interno del rapporto di secondo welfare ci sono molti casi concreti di applicazione di questi sistemi tra questi come vi dicevo in apertura anche un programma chiamato Cambiaterra coordinato da Grazia Moschetti che prevede appunto l'organizzazione tramite coprogettazione di servizi e supporto delle donne a rischio di violenza nel settore agricolo del sud Italia e ci piacerebbe appunto ci fa piacere appunto ispitare anche l'intervento di Grazia perché ci porta un caso di applicazione concreta secondo me molto ben fatto e quindi lascio la parola a Grazia che credo comincerà con un video che devo mandare io grazie Marco io nell'intervento proverò a riprendere alcune parole chiave che la professoressa Maino ha portato nel suo intervento così giusto per dare un po' di diciamo ricondurre l'esperienza pratica all'impianto che Franca aveva descritto e partiamo con il video se ci riesco sì io ho chiesto a Marco di farlo perché non sono capace mi alzavo la mattina prendevo la bambina la mettevo su la bicicletta e mi facevo il giro di tutto il paese e guardavo tutti i cangeli e guardavo tutti i cangeli pensando dove posso bussare per trovare il lavoro nessuno mi ha aiutato sono 16 anni che sto qui e quindi nessuno nessuno mi ha dato una mano in niente cioè in nulla ho dovuto prendermi la forza e lottare da sola io sono una guerriera per cui ora vorrei che le donne vedessero in me quelle che io non ho visto in nessuno Maria Rumena in Italia da 16 anni racconta quanto sia duro per una donna lavorare nei campi e lo è ancora di più se sei straniera e madre migliaia di donne braccianti sulla carta non esistono vivono in una zona grigia senza diritti stava tutto il giorno sua figlia da sola tutto il giorno da sola sì io mi svegliavo andavo a lavoro quando avevo la febbre lasciavo lo sciroppo sul comodino si prendeva la tachipirina nurobrex da sola alcune le portano proprio nei campi o nelle sere e dove dormono nei campi i bambini? dormono nelle casette oppure alcune si sono organizzate in modo non formale non parliamo dei babysitter c'è un'altra persona che viene pagata al nero per accudire un numero abbastanza alto dei bambini bambini affidati a estrane perché di notte non ci sono asili aperti solo il comune di Adelfia provincia di Bari ha capito l'importanza di questa opportunità per le braccianti ora le porte del suo nido si aprono anche alle 4 di mattina un piccolo tassello prezioso stato di necessità e assenza di servizi consegnano le braccianti al ricatto dei caporali il progetto cambia terra vuole spezzare tutto questo ti parla e fuori anche a lavoro se ti ribelli se c'è qualcosa che non ti va e apri la bocca poi magari vieni punito lasciato a casa la donna isolata fa comodo a queste persone ecco perché ci sono tanti agricoltori che hanno pure abitazioni in cui le persone vivono proprio perché devono essere staccati dal mondo la maggior parte delle volte non conoscono nemmeno i diritti non sanno il fatto della disoccupazione agricola non la malattia loro si affidano completamente a questi caporalli non conoscendo né il territorio né la lingua né tante altre cose e nonostante poi rimangono per molto tempo non hanno il contatto diretto con le istituzioni proprio perché sono immarginate l'arco ionico tra Puglia Calabria e Basilicata terra di fragole agrumi e uva ha bisogno di più manodopra di quanta ne venga dichiarata rumene bulgare polacche ingaggiate nei paesi d'origine senza documenti contratti irregolari o assenti paghe da fame e orari massacrati un lavoro sommerso che si presta ogni sfruttamento ci sono queste liste nere per cui tra caporalli anche a livello interprovinciale interregionale passano il nominativo e viene denominata questa persona come una portatrice di problemi o una campatrice di diritti e quindi è persona da isolare le donne sono costrette come dire a soccombere rispetto a dei ricatti che non si fermano soltanto al campo del lavoro agricolo si traslano anche nel campo di quello che è la vita privata e quindi anche lo sfruttamento psicologico l'avanzamento delle pretese anche di uso del corpo non solo nel campo ma anche fuori dal campo e quindi uno sfruttamento anche sessuale delle donne regole non scritte accettare il cornetto e il caffè fatti trovare dal caporale sul polmine è un implicito consenso avanza molesti e abusi sessuali fino alla violenza sono le facce più oscure e meno conosciute dello sfruttamento lavorativo delle braccianti pochissime le denunce sono cose che avvengono gradualmente poi se il caporale o il datore del lavoro non ottiene quello che vuole si passa proprio ai mezzi forti non sono fantasia di donne che raccontano delle cose che non stanno in cimitero qui ci sono appostamenti ci sono registrazioni della guardia di finanza persone che sono state ridotte in schiavitù abusate e fatte dormire in dei porcili quindi la condizione che viene nascosta che non riesce come dire a rompere questa cortina anche di omertà è una condizione abbastanza preoccupante tante volte non vanno a fare le denunce anche perché dietro di loro non c'è qualcuno che poi li viene a sostenere la giustizia è molto lenta e in questo arco di tempo loro rimangono non protette non sono più protette quindi se mettiamo in rete più istituzioni si possono cambiare le cose francesca francesca celsausimo schietti g24 castrovilleri cosenza grazie grazie Marco rispetto a questo contesto avete visto in questo video avete conosciuto le leader di comunità le leader di comunità sono lavoratrici agricole che insieme ad action aid e ad una rete di soggetti a partire dai sindacati dalle agenzie formative dei sindacati hanno fatto un percorso di formazione per rappresentare altre donne questo percorso aveva quindi tutto diciamo tutta un'area dedicata ai diritti dentro i luoghi di lavoro e è stata curata in collaborazione con la fondazione METES della FLYCGL quindi della categoria che si occupa proprio delle lavoratrici agricole e questo diciamo poi è proseguito con una formazione tra donne condotta da psicologhi di comunità che hanno lavorato anche diciamo sulla condivisione di un linguaggio sul riconoscimento delle forme di oppressione che diciamo di cui ciascuna donna purtroppo aveva esperienza questo percorso è stato necessario perché prima di arrivare alla coprogettazione è necessario condividere la conoscenza e rispetto a quel mutamento normativo di cui la professoressa Maino accennava diciamo in apertura cambiata era l'attraversato perché è nato da un flagship nel 2016 e quindi poi abbiamo attraversato tutte queste fasi l'articolo 55 la sentenza della corte e i decreti e questo per noi ha significato anche affrontare quindi la sfida di lavorare sulla ridefinizione dei servizi di welfare all'interno dell'arco ionico in cui avevamo insieme Puglia Basilicata e Calabria e la Calabria non aveva alcuna applicazione della 328 quando noi abbiamo iniziato a lavorare con Pasquale diciamo col presidente di Lazus che all'epoca seguiva proprio i tavoli di coprogettazione non avevamo piani sociali di zona su cui poggiare questa ridefinizione del welfare e naturalmente una delle sfide è proprio quella che citava prima Franca di differenziare le soluzioni a seconda dei contesti locali perché se regioni e territorio prendono strade differenti poi però quelle stesse regioni costituiscono l'areale di migrazione che significa ci sono donne che dalla provincia di Taranto alla provincia di Sibari quindi in quello che avete sentito definire come l'arco ionico migrano fanno anche fino a percorrono fino a 200 km al giorno per raggiungere il posto di lavoro e quindi allora non bastano i servizi nel comune di residenza ammesso che i dati ci dicano quali sia perché quel tema è anche rispetto alla trasparenza del dato e all'assenza diciamo di una riflessione di genere all'interno delle politiche che tra welfare e lavoro dovrebbero contrastare lo sfruttamento lavorativo e in questo senso quindi poter tradurre le politiche dei singoli territori per poi condividerle con le donne individuare quali erano gli anelli che costituivano poi la loro personale e poi quella collettiva catena di oppressione ha significato fare un lavoro straordinario che è stato possibile portare a compimento grazie a uno strumento come il patto di collaborazione e quando l'abbiamo sperimentato la prima volta nel 2016 è stato proprio per poi istituire l'apertura e la chiusura in flessibilità dell'asilo nido ma era diciamo uno strumento assolutamente nuovo in cui soggetti che storicamente sui territori si erano confrontati come competitor per la gara per vincere insomma il servizio da gestire servizio pubblico da gestire in appalto hanno invece dovuto stabilire insieme un terzo obiettivo non il mio non il tuo un obiettivo che noi costruiamo insieme e quindi il lavoro di coprogettazione che metteva al centro il lavoro femminile in agricoltura come il bene comune di queste aree perché le politiche parlano al maschile parlano di cittadini i paesi terzi ma il lavoro agricolo qui è femminile io dico qui perché sono basso a tabale insomma l'arco ionico è femminile e quindi capiamo immediatamente qual era quel cambiamento culturale necessario per iniziare ad appoggiarci a diciamo nuove logiche nuovi strumenti tra l'altro diciamo veniamo anche a territori in cui i soggetti di terzo settore si sono sempre più specializzati in interventi programmi di intervento sulla base delle politiche e quindi delle risorse destinate all'implementazione di queste politiche nazionali che quindi parlano di cittadini uomini paesi terzi anche visibili nella vergogna dei ghetti ma invece quando volgiamo lo sguardo alle donne comunitarie impiegate in agricoltura tipicamente non sono nei ghetti sono in una dimensione ancora più privata ancora più chiusa a questo sono serviti i circoli reflection action cioè questi luoghi in cui action aid ha supportato le donne nella presa di parola nella diciamo anche scelta di chi le avrebbe rappresentate e voi avete visto nel video ci sono prima Maria e poi Adriana che sono due leader di comunità del programma che poi hanno seduto ai tavoli di coprogettazione con le istituzioni una volta tradotte le politiche una volta condivise e collettivizzato l'obiettivo e li hanno ridefinito i servizi ibridi ad oggi quindi il programma ha creato una rete di cinque patti di collaborazione e rispetto alle sfide di questi patti naturalmente si sono imbattuti anche nel fatto che ad esempio Scanzano Ionico uno dei luoghi dove maggiormente le donne sono impiegate e più diciamo sono invisibili non avevamo con chi dialogare non avevamo la parte politica perché era stato sciolto per mafia e poi commissariato e quindi in quel caso è intervenuta la provincia di Matera lo strumento del patto ci ha dato la possibilità anche di agire geometrie variabili flessibili sempre sullo stesso obiettivo ma diciamo ricucendo i territori che invece le politiche regionali e quindi i locali vanno inevitabilmente a spezzettare e rispetto diciamo alla multidimensionalità che veniva anche richiamata dalla professoressa Maino mi piace condividere questa diciamo riflessione di Claudia Fauzia sulla appunto multidimensionalità e lei dice la vita delle donne è determinata dal contesto culturale quel cambiamento di cui parlava Franca e in gran parte dalle questioni strutturali posso pure trovarmi in una famiglia che non permette alle donne di lavorare ma se l'occupazione manca o non è legale non ho comunque la possibilità di farlo la causa quindi non è lo stereotipo ma è strutturale ed è molto più complessa di quanto si possa pensare e certe caratteristiche strutturali sono determinate da un'oppressione questo significa naturalmente che laddove il tema è diciamo l'impiego femminile in agricoltura in condizioni di opacità contrattuale di semi irregolarità perché a volte si lavora per due datori di lavoro uno in maniera perfettamente regolare le 6 ore 40 previste dal contratto collettivo e poi il pomeriggio si va a lavorare da qualcun altro che fa pratiche sleali imprenditori che esercitano pratiche sleali e quindi se questa è la mia unica via e del lavoro in agricoltura allora forse non dobbiamo pensare che dobbiamo duplicare all'infinito il sistema e spostare semplicemente l'attenzione dall'azienda agricola che è brutta e cattiva alla diciamo micro alla micro cooperativa ma dobbiamo iniziare a guardare anche appunto alle cause strutturali i servizi pubblici in questi luoghi sono determinanti e naturalmente se in Calabria il 90% dei servizi per minori sono nelle aree urbane dove certamente non si fa agricoltura e sono privatizzati quindi le donne con questo reddito non hanno possibilità di accedere ai servizi allora questa è una causa strutturale su cui necessariamente ci dobbiamo interrogare per questo siamo intervenuti su diciamo i servizi di welfare ibridandoli e rendendoli sempre più flessibili il 30 aprile abbiamo chiuso il secondo intervento il Bright 2 che fa parte del programma Cambiaterra abbiamo riattualizzato i patti che avevamo siglato due anni fa io dico sempre noi facciamo un metro avanti e poi immediatamente ci troviamo spostati due metri indietro il contesto cambia velocemente e quindi diciamo non lo dobbiamo inseguire ma certamente dobbiamo fare in modo che le donne siano sempre al centro della programmazione dei servizi e siano sempre al centro della loro ridefinizione e lo stesso vale per il fatto che anche quando parliamo delle politiche europee ancora non riusciamo a capire che è necessario guardare a un welfare che sia rurale e agricolo e non può essere lo stesso welfare urbano quando inizieremo a discuterne probabilmente il fatto che la politica agricola comune europea adesso abbia un obiettivo specifico l'obiettivo 8 proprio per realizzare la parità di genere in agricoltura speriamo che ci porti ad un avanzamento e questo rappresenta una delle sfide diciamo del futuro su questo abbiamo fatto un lavoro interessante con l'Absus perché l'Absus ha fatto uno studio che ha guardato a 5 paesi europei per capire ma il nostro principio di sussidiarietà che ci consente di avanzare con i patti di collaborazione poi lo possiamo declinare sulle leggi della partecipazione che ci sono a livello europeo e allora possiamo pensare a un patto cornice europeo che includa i paesi di invio delle donne di rientro però su questo non mi allungo perché tanto abbiamo il presidente e quindi se vorrei integrare sarò contenta e un'ultima cosa noi abbiamo iniziato con una coprogettazione molto leggera sostanzialmente non ci credeva abbastanza nessuno però un anno fa a distanza della presentazione del rapporto che Alberto chiedeva prima si è quello le raccomandazioni per gli enti locali di quel rapporto in cui noi chiedevamo come Action Aid che adottassero i servizi ibridi di welfare attivassero i percorsi di coprogettazione con le lavoratrici agricole sono state pienamente assunte da uno di questi comuni dal comune di Corigliano Rossano e nel percorso di coprogrammazione che questo comune ha fatto nella piana di Sibari per il piano locale multisettoriale diciamo questo ha portato una sperimentazione piccola molto territoriale all'attenzione del ministero e era sostanzialmente l'unico piano locale multisettoriale che aveva una chiara prospettiva di genere i piani locali sono stati individuati come strumento di innovazione da parte del ministero del lavoro e delle politiche sociali in nove comuni ad alto tasso di sfruttamento lavorativo in tutta Italia da nord a sud tra questi ricade Corigliano Rossano e quindi questo percorso ci ha portato poi a definire insieme con naturalmente molti altri attori associazioni sindacati aziende agricole un piano diciamo un piano locale per politiche integrate quelle che richiamava che richiamava Franca si trova sul sito del ministero vi invito a guardarlo anche diciamo per curiosità perché è veramente un bel esempio di coprogrammazione con una chiara lente di genere e quindi concludendo questo assegnato naturalmente come scriviamo nel rapporto una grammatica differente di welfare perché è stato inteso realizzato come un connettore di competenze e relazioni generatrici di valore per le comunità e quindi diciamo vedere questo percorso che è riuscito a sfidare quella logica diciamo che le norme ci dicono che è organizzata per comuni per regioni e vederlo invece su una dimensione nazionale io penso che sia diciamo comunque interessante considerato che l'arco è anche abbastanza diciamo ristretto quattro anni ci sono diciamo abbiamo impiegato per questo percorso ed oggi Cambiaterra è all'interno di un horizon uno dei cinque horizon finanziati proprio dalla DG Agri della commissione europea per indagare come queste pratiche di innovazione che sono presenti nei paesi europei Cambiaterra è stato scelto per l'Italia può incidere sulle politiche europee per renderle sempre più rispondenti ai bisogni di genere e alle differenze culturali all'interno degli strumenti di programmazione europea se pensiamo e concludo che fino a tre anni fa nella politica agricola comune che è quella che poi da cui derivano le nostre politiche nazionali e le risorse che vengono destinate si parlava solo di benessere degli animali e non veniva minimamente citato i diritti umani delle lavoratrici e dei lavoratori questo è accaduto con una lotta che naturalmente varie organizzazioni a livello europeo hanno fatto in rete e oggi finalmente abbiamo addirittura nella politica agricola comune l'obiettivo otto specifico sulla questione di genere quindi questo significa che un cambiamento è possibile e diciamo lasciatemi dire è possibile e se solo se resta il centro di questo percorso da un lato la rappresentanza delle donne lavoratrici in agricoltura con l'accessibilità degli strumenti delle politiche di cambiamento e dall'altro gli enti locali che restano fondamentali per i processi di innovazione che portano i patti di collaborazione grazie grazie a te grazie 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 sempre un po' grazie davvero anche per aver reso realmente la complessità poi di che cosa sia una coprogettazione vera e propria specialmente in aree marginali con soggetti vulnerabili diciamo così e anche per aver introdotto uno degli strumenti con cui si possono applicare queste pratiche di coprogettazione che sono i patti di collaborazione che è uno dei tanti strumenti forse anche uno dei più flessibili con cui si possono applicare queste pratiche e che sono uno strumento appunto che in Italia è promosso soprattutto dall'Absus che è stato chiamato anche in causa quindi Pasquale io ti chiamo in causa anch'io e ti invito appunto a aiutarci un po' a avviare la riflessione e la discussione su quanto ascoltato fino ad adesso soprattutto sulle problematiche e i diversi strumenti che si possono anche integrare tra di loro su come fare coprogettazione e poi ci sono già delle interazioni in chat quindi andiamo anche verso poi un momento di domande a te la parola Pasquale grazie 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 Marco e grazie per questa opportunità diciamo subito che finalmente oggi l'amministrazione condivisa è un modello riconosciuto un modello di carattere generale che permette di sviluppare relazioni innovative tra pubblica amministrazione e cittadini per fare cosa per risolvere problemi per rispondere ai bisogni e far emergere anche le potenzialità di una di una comunità quindi in definitiva noi quando parliamo di amministrazione condivisa parliamo di strumenti che ci permettono di lavorare sull'emancipazione della persona e questo è un po' la chiave la chiave di lettura come risposta dunque alla solitudine e alla povertà nella cornice multidimensionale a cui si è già fatto cenno quindi noi quando parliamo di amministrazione condivisa in questi termini in realtà noi stiamo parlando di democrazia per fare che cosa? per curare risposte per trovare insieme risposte al tema delle disuguaglianze su cui nello Stato nel mercato nel tempo hanno prodotto risposte efficaci almeno in relazione al tempo che ci è dato di vivere in più continuando su questa scia del rapporto tra amministrazione condivisa e democrazia mi sembra di aggiungere proprio per sottolineare quel dato l'elemento multidimensionale dei fenomeni di povertà che le aree più colpite da fragilità in questo senso nel nostro paese sono anche le aree in cui è più forte l'astensione dal voto quindi per dire come tutti questi elementi poi alla fine si collegano e rafforzano l'idea di costruire una correlazione stretta tra amministrazione condivisa democrazia e costituzione perché se parliamo di emancipazione della persona oltre che agli strumenti che sono abilitati grazie all'articolo 118 della costituzione noi facciamo riferimento chiaro ed evidente all'articolo 3 della nostra costituzione dove si parla di pieno sviluppo della della persona ecco e allora come l'amministrazione condivisa può agire su su questi elementi ecco veniva detto molto chiaramente prima utilizzando la leva della collaborazione in luogo della competizione utilizzando la fiducia al posto dell'esercizio dell'autorità lavorando sulla un nuovo ruolo che devono avere le pubbliche amministrazioni a partire dagli enti locali come soggetti facilitatori delle relazioni all'interno di un territorio facilitatori nella comunità invece diciamo che come dire utilizzare l'esercizio del potere sulla comunità questa lista un po' la chiave di applicazione del del modello di amministrazione condivisa in questo contesto da Suss ha promosso in particolare uno strumento lo conoscete lo ricordava Marco i patti di collaborazione i patti di collaborazione che noi diciamo suddividiamo in ordinari e complessi che attenzione non questa suddivisione non riguarda l'efficacia del patto riguarda il livello di complessità delle azioni e soprattutto gli effetti di natura economica che i patti possono avere mi piace richiamarli entrambi perché attraverso i patti ordinari si mobilitano i singoli cittadini in azioni di cura molto semplici ma che inseriscono i gruppi informali le singole persone in un contesto in cui la democrazia viene vissuta no? e quindi questo è molto importante stando attenti ad un elemento mai confondere la cura e la manutenzione altrimenti poi cadiamo nell'idea che i cittadini possano sostituire la pubblica amministrazione invece attraverso l'amministrazione condivisa i suoi molteplici strumenti come dire il cittadino le organizzazioni di terzo settore portano qualcosa in più che l'idea del tradizionale servizio pubblico costruito attraverso l'esercizio dell'autorità non può non può dare oggi no? finalmente parliamo di una pluralità di strumenti non ci sono solo i patti di collaborazione che sono stati i primi applicati grazie al regolamento adottato per primo dal comune di Bologna dieci anni fa ma possiamo contare su tutta quella platea di strumenti previsti in particolare nel codice del terzo settore oggi il rischio qual è? oggi viviamo un rischio il rischio e lo si legge purtroppo su più su più fronti è quello di racchiudere l'amministrazione condivisa nel rapporto che attenzione resta fondamentale ma non è l'unico tra pubblica amministrazione e terzo settore l'amministrazione condivisa ci insegna che è un modello che lavora sulle alleanze tra soggetti diversi per il tramite molto spesso di un bene comune costruisce bene comune che può essere materiale immateriale o può essere un servizio come nell'esperienza che ci raccontava grazia per il tramite di un bene comune costruisce una relazione anche con l'istituzione ecco se noi perdiamo di vista questo sistema a geometrie variabili tra diversi soggetti e diversi strumenti rischiamo di perdere la forza che caratterizza l'amministrazione condivisa cioè quella di incidere sulla qualità delle nostre democrazie e quindi si ritorna ancora lì se rinchiudiamo l'amministrazione condivisa nel recinto della coprogettazione rischiamo ancora una volta di tornare a parlare solo di servizi e perdiamo di vista il punto di vista delle persone che dovrebbero essere non solo i fruitori di quei servizi ma essere i protagonisti di un processo anche di natura politica e allora quali possono essere i percorsi da fare innanzitutto ragionare sull'amministrazione condivisa come funzioni amministrative quindi superare anche l'idea su cui molto spesso con alcune amministrazioni che applicano poi il nostro regolamento troviamo un punto di intesa cioè superare anche l'idea dell'ufficio per i beni comuni ma lavorare su una funzione capace di utilizzare insieme tutti gli strumenti a disposizione del modello di amministrazione condivisa perché utilizzati insieme permettono di moltiplicare l'efficacia e quindi l'impatto delle azioni che vengono portate avanti secondo punto la diffusione del modello secondo uno schema virtuoso che ci è stato presentato nelle relazioni nelle relazioni precedenti perché perché dobbiamo assolutamente evitare in questa fase in cui come dire il modello si va diffondendo che possa essere un modo per come dire per gestire delle gare mascherate e che quindi non hanno per nulla le caratteristiche che abbiamo evidenziato finora terzo elemento la formazione ci sono ancora tante amministrazioni tanti comuni tanti enti pubblici che hanno bisogno come dire di di conoscere questo tipo di processi di apprendere un modello in cui alla contrapposizione tra interesse pubblico e interesse privato si preferisce la costruzione la definizione condivisa dell'interesse generale questo è un punto chiave su cui lavorare altro elemento la collaborazione visto che ne parliamo tra organizzazioni impegnate su questi temi ancora come dire la cura del proprio orticello è ancora un peccato di cui che dobbiamo che in qualche maniera dobbiamo dobbiamo superare impostata secondo quel modello che le cui caratteristiche oggi abbiamo ascoltato solo in questo modo potremo avere la capacità come dire di determinare attraverso i processi di amministrazione condivisa le scelte di pianificazione di programmazione della pubblica amministrazione attraverso quell'alleanza a più livelli tra soggetti diversi che ci permette di guardare davvero risultati che potevano sembrare ispirati grazie faceva riferimento all'idea che stiamo portando avanti da un po' di tempo rispetto al progetto Bright con le donne braccianti di costruire un patto cornici a livello europeo da dove nasce quell'esigenza nasce dalla mancanza di strumenti innanzitutto dentro i processi di amministrazione tradizionale quello verticale che ci imporrebbe come dire delle a un livello ci imporrebbe un livello di democrazia che impedirebbe qualunque risultato e di lavorare sulla necessità di contrapporre allo schema diciamo di sfruttamento illegale che fa cadere le donne che si muovono da altre nazioni verso il nostro paese già prima della partenza in una rete di sfruttamento contrapporre una rete di solidarietà che metta insieme le organizzazioni sociali gli enti locali di più nazioni come farlo nella maniera più semplice immediata possibile attraverso un patto di collaborazione un patto di collaborazione che prevede il coinvolgimento e quindi l'impegno non può essere altrimenti sul piano politico delle pubbliche amministrazioni di altre nazioni che non hanno il nostro il nostro principio di sussidio di rete orizzontale e lavorando su quella che costituisce la vera forza del progetto Bright la rete tra realtà collettive tra associazioni tra enti di natura diversa che hanno lo stesso obiettivo e che attraverso la cornice del patto di collaborazione possono immediatamente lavorare insieme ecco e su questo e chiudo ci sono delle frontiere su cui lavorare mi piace chiudere suggerendo alcuni temi su cui siamo impegnati come l'Apsos negli ultimi mesi il lavoro sui territori fragili intendendo per territori fragili in questo caso proprio quei territori che vivono calamità naturali a causa della fragilità del loro territorio e quindi stiamo utilizzando i patti di collaborazione per contribuire a definire i piani di protezione civile locale in che senso diventa un'idea di carattere generale perché attraverso questo modello si supera l'idea del piano di protezione civile locale del contributo che possono dare le associazioni come idea di attivazione della comunità in caso di emergenza ma qui lavoriamo su un'idea di pianificazione e cura del territorio per evitare che le calamità naturali possano avere un impatto devastante sugli stessi il tema della scuola i patti educativi di comunità oggi diventano uno spazio di costruzione di relazioni tra scuola e territorio che restituisce alla scuola un ruolo centrale nella definizione di ipotesi di sviluppo locale terzo tema l'utilizzo dei beni confiscati alle mafie in un'ottica anche qui collaborativa accorciando i tempi di riuso e riaffidamento dei beni grazie allo strumento dei patti e soprattutto utilizzando processi collaborativi in luogo dei processi competitivi attraverso cui di solito quei beni vengono affidati alle comunità e su questo ci sono già numerosi numerosi esempi ultimo tema molto interessante era stato già richiamato anche all'inizio le comunità energetiche rinnovabili oggi l'autoconsumo di energia attraverso il modello delle comunità energetiche rinnovabili è un'attività di interesse generale da pochi mesi le comunità energetiche rinnovabili possono essere in tal senso anche enti di terzo settore possono utilizzare gli strumenti dell'amministrazione condivisa e quindi poter prevedere già nello statuto di fondazione della comunità l'utilizzo degli strumenti collaborativi utilizzare gli stessi per gli interventi di carattere sociale che le economie di una comunità energetica possono produrre mi sembra un'ipotesi assolutamente interessante da sviluppare tutto questo per tornare al tema con cui ho aperto l'amministrazione condivisa oggi rappresenta lo strumento e la frontiera più interessante per contrastare le disuguaglianze nel nostro paese e questo è il tema su cui ci sentiamo fortemente ingaggiati e questo è il tema su cui continuare assolutamente a lavorare grazie grazie mille Pasquale concordo assolutamente per quanto riguarda appunto il tema della collaborazione tra organizzazioni diverse che si occupano dell'argomento ecco siamo qua appunto tu sai appunto quanto ci lavoriamo anche insieme su questa cosa perché assolutamente esatto esatto allora ci sono abbiamo già sforato il tempo a disposizione però tuttavia vorrei lasciare spazio anche a persone che vogliono fare domande vedo che in chat alcuni hanno già interagito quindi io vi lascio insomma a chiunque vuole Alberto Teresa avevano fatto delle domande anche in chat se vogliono prendere la parola per dirci un po' le loro impressioni o anche semplicemente delle riflessioni generali su quanto è stato detto non so se ci sono sempre presente salve a tutti Alberto sì molto interessante io non conoscevo il LabSus diciamo e altre realtà così impegnate dal punto di vista sociale del terzo settore verso l'amministrazione condivisa la partecipazione e diciamo queste collaborazioni tra enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni quindi sostanzialmente sono contento che ci sono queste realtà che operano nel territorio nazionale e che di fatto come comunità di pratiche perché nell'Hub di partecipazione rientra questa iniziativa e quindi diciamo quello che mi auspico è una maggiore collaborazione tra le varie comunità di pratiche perché mi sono reso conto che molti argomenti sono comuni a tutte le comunità di pratiche praticamente ecco perché di fatto parliamo di amministrazione condivisa non possiamo non parlare di partecipazione perché se parliamo di amministrazione condivisa l'elemento congiunturale è la partecipazione dei cittadini le modalità di partecipazione poi parliamo della qualità della partecipazione pubblica come coinvolgere i cittadini con quali strumenti con quali modalità quindi sono tutti aspetti correlati e io di fatto l'ultimo ho partecipato all'ultimo all'ultima comunità di pratiche che era tecnologie digitali a supporto della partecipazione pubblica e di fatto da lì emergono anche dei temi di interrelazione tra questi vertici che sono appunto le cinque le sei comunità di pratiche e necessità di collaborazione sempre maggiore per ovviamente l'obiettivo principale l'interesse pubblico perché se ci allontaniamo dall'interesse pubblico di fatto abbiamo perso di vista l'obiettivo principale di nascita di queste comunità di pratiche quindi io vi ringrazio per l'invito per la partecipazione e vi auguro vi saluto grazie grazie a lei grazie a te se ci possiamo dare del tu sì certamente appunto la partecipazione è un termine appunto molto polisemico può essere applicato in tanti contesti diversi un po' lab della partecipazione è quello anche per trovare a creare un luogo in cui tutti i diversi possibilità con cui si può declinare i termini di partecipazione riescono a trovare un luogo comune e in questo caso appunto questo è partecipazione applicata appunto all'amministrazione condivisa dei beni comuni intesi in senso ampio e quindi anche come servizi servizi di natura welfareistica e appunto guarda la parità di genere e l'integrazione sostanzialmente io avevo appuntato qua una una piccola un piccolo riferimento di fatto ecco non è semplice coprogettare coprogrammare o cogestire diciamo queste politiche perché già la norma ci dice come fare ora dobbiamo capire come interagire con tra o meglio con strumenti giuridici che già di fatto la professoressa ha un po' citato se non ricordo male però di fatto ecco non è facile capire come interagire tra quello che dice la norma e quello che i cittadini possono fare per realizzare già quello che la norma ha detto sostanzialmente perché la lotta al caporalato la parità di genere gli obiettivi di sviluppo sostenibile tutta una serie di obiettivi che a livello politico nazionale già di fatto sono intavolati nei maggiori tavoli di discussione di dibattito nazionale quindi la norma già ci dice cosa fare ora come i cittadini chi è che vuole fare amministrazione condivisa chi è che vuole partecipare può interagire con ciò che già l'amministrazione ha previsto e con quali modalità questo è secondo me il tema centrale del dibattito su questi temi fondamentali che giustamente voi portate al centro della discussione grazie grazie mille ci sono altri interventi leggevo un intervento interessante di Luigi Pintori che parlava di suggeriva di parlare di sussiderità circolare piuttosto che orizzontale se ci vuoi Luigi spiegare meglio e ci sei sì ci sono e volentieri faccio un cedo nel senso che non è tanto per dire che l'amministrazione condivisa può essere intesa solo come sussidiarità orizzontale ma che abbiamo comunque bisogno di introdurre e in qualche modo di ripondere il concetto di sussidiarità circolare questo perché siamo molto ancorati ancora dentro quella visione che vede solo il pubblico e il privato per un verso e per altro verso anche una visione dell'impresa che non è come dire più perlomeno attuale se pensiamo come si sta sviluppando come si stanno sviluppando le imprese benefitti per un verso e per altro verso l'evoluzione stessa del terzo settore dopo il codice del 2017 per cui nella sussidiarità circolare noi abbiamo la possibilità di come dire mettere in situazione i diversi soggetti quindi lo stato il mercato e la comunità e questo ribadisco senza come dire senza sminuire il lavoro enorme che io seguo da anni di l'absus per cui insomma voglio dire sono c'è una convergenza di obiettivi importante io credo che ci sia un salto di grado nel passaggio nella appunto nella sussidiarità circolare ed è quella che rimette in moto tutti i diversi soggetti e è proprio distinguendoli per meglio unirli quindi diciamo stato mercato e comunità quindi pubblico privato e comunità e quel privato insomma va ulteriormente sviluppato per creare anche imprese che siano più all'altezza insomma di un passaggio d'epoca che ci porta a superare alcuni aspetti che non possono essere riproposti tipo il modello di ordine sociale come quello di tipo capitalistico ma non per andare contro il capitalismo scioccamente quanto invece di insomma costruire quella società e quel modello di ordine sociale che già in atto in moto e noi tutti siamo protagonisti e soggetti attivi tutto qui grazie posso aggiungere un pezzo di grazie allora come dire io non sono affezionato alle distinzioni semantiche diciamo che il modello di amministrazione condivisa e tutti gli strumenti dal patto di collaborazione agli altri prevedono esattamente quello che lei ha detto che io condivido a pieno le norme definiscono questo sussidiarietà orizzontale e questo ci aiuta ci facilita nella relazione con le amministrazioni perché se cominciamo a distinguere nella terminologia i contenuti che sono assolutamente identici moltiplicheremmo le difficoltà e allora le distinzioni semantiche lasciamo le agricoltori agli studiosi della materia che hanno bisogno di definire di marcare il territorio nella pratica sappiamo che esattamente come per il welfare mix il welfare comunitario il welfare circolare no stiamo parlando delle stesse identiche cose quello che conta sono i principi che sono stati approfonditi e richiamati oggi e gli strumenti che ci permettono di applicarlo evitiamo di utilizzare poi questo perché questo nella pratica poi questo accade la distinzione tra le diverse terminologie come dire facilita e moltiplica quella cura del proprio orticello a cui facevo riferimento prima tra le diverse organizzazioni e i problemi che abbiamo di fronte invece hanno bisogno tutte di lavorare insieme io capisco e condivido il fatto di lavorare davvero insieme e non condivido pienamente diciamo questo problema della come dire del problema insomma di moltiplicare l'aspetto semantico anzi è proprio forse quando c'è una gamma semantica plurale sicuramente c'è un valore aggiunto quindi il fatto di ulteriormente scavare anche teoricamente non va lasciato ai teorici chi agisce per lo sviluppo ha una prassi che deve condividere una teoria che vede e che in qualche modo impatta in termini trasformativi l'amministrazione condivisa se rimane solo siamo assolutamente d'accordo su questo diciamo l'applicazione del principio di sussidiarietà secondo quei modelli che abbiamo raccontato oggi va esattamente in quella direzione con quegli strumenti che la chiamiamo sussidiarietà io ho capito anche il suo discorso e lo condivido però non va intesa la sussidiarietà circolare come fosse come dire un approfondimento di tipo semplicemente teorico qui la teoria fa fare il salto che serve proprio anche in termini di modello di sviluppo secondo me ma poi voglio dire va bene così ringrazio e mi complimenti ancora perché voglio dire provo ammirazione e ho seguito questo questo percorso con voi con molto piacere l'ho voluto solo inserire perché sono convinto che non è retorica ma c'è sostanza grazie grazie a lei c'era Franca tra l'altro che voleva intervenire Franca sì ma insomma volevo volevo in certo senso richiamare che nella prospettiva del sesto rapporto ma anche dei rapporti precedenti diciamo facciamo più ampio riferimento al concetto di governance collaborativa che forse permette di come dire rimandare ad una cornice più ampia dentro la quale poi ci possono stare la sussidiarietà orizzontale e anche proprio quella sussidiarietà circolare insomma mi ritrovano nell'intervento di Luigi però ecco così da un lato suggerivo questo e dall'altro segnalavo che sia in questo sesto rapporto al di là della coprogettazione della coprogrammazione come dispositivo proprio richiamando delle prassi che sono molto più comunque più diffuse abbiamo visto svilupparsi anche precedentemente proprio lì noi andiamo a sottolineare la possibilità che ci si apra come richiamava Luigi Pintori se non capito bene se non sbaglio il nome proprio anche al mondo delle imprese ecco da questo punto di vista credo che ci sia oggi molto spazio proprio per portare ai tavoli portare dentro nei processi coinvolgere in tutte quelle fasi che ho richiamato e che sono ben presenti per chi come l'Apsus come ActionAid proprio lavora concretamente nei territori dentro questi 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 patti per generare patti di collaborazione o nei processi di coprogettazione ecco credo che ci sia comunque molto più spazio per una pluralità di attori di quanto non si colga ancora diciamo rimanendo un po' ancorati a pubblico e terzo settore quindi da questo punto di vista c'è ancora molto lavoro da fare solo richiamare questo e ringraziare tutti per la partecipazione e gli spunti grazie grazie a voi grazie a tutti allora a me dispiace un po' lasciare in base alcune domande che sono in chat tipo quella di Teresa che non vedo però il cognome che io non so può riassumere quindi a me dispiace un po' non dare un feedback se vuole intervenire siamo qua ecco altrimenti ci avviamo verso la conclusione che abbiamo già sforato abbastanza sul tempo previsto in ogni caso appunto io vi invito rinnovo l'invito a chiunque vuole di iscriversi al lab della partecipazione dove c'è questo spazio che abbiamo creato su cui appunto non soltanto se con il permesso di tranca e di chiara metterò le slide che sono state presentate qua e anche tutte le altre informazioni che sono state circolate compreso anche il report di Cambiaterra e quindi possiamo anche eventualmente continuare lì e poi lì questo è solo uno dei tanti appuntamenti che abbiamo intenzione di organizzare su questo argomento anche in futuro insomma quindi diciamo non se volete possiamo continuare alla discussione anche in quella in quella sede comunque sia non ci perdiamo ecco non ci perdiamo di vista con questo se non ci sono ulteriori interventi io non voglio tagliare la discussione ma non voglio neanche portarlo di via troppo tempo io vi saluto e vi ringrazio veramente a tutti e tutte specialmente i relatori e le relatrici per commenti veramente molto interessanti che speriamo di portare avanti anche insieme appunto con quel principio di collaborazione di cui parlava Pasquale anche in futuro sapete comunque io vi starò addosso perché tanto lo sapete perché mi conoscete e quindi ok grazie mille grazie alla prossima grazie a tutti grazie a tutte grazie ciao ciao grazie a tutti